musica 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 allora com'è rega? da posto? vieni vieni musica 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 allora da posto? buongiorno rega buongiorno oggi abbiamo una sfida raga con limone cin cin abbiamo 100 grammi a testa di zenzero eee e vediamo chi riuscirà a cambiarlo prima ecco il cronometro ecco qua wow e iniziamo via guarda ora devo dare sui ahahah devo smutare ahahah 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 via via I ain't gotta help it! Io non ho parole E' che sto scemo voleva farlo con il limone Ho paura per domani E' un mix di sapore tra limone, selvatico e peperoncino E' un valium, e il valium ci fa un baffo Madonna raga Sto male, sento freddo Allora Kevin, mi hai mollato? No sto pensando Ci sta passando la vita davanti Siamo a 3 minuti e 50 e sono partiti solo due ragazzi Sono due ragazzi Qua è più il momento di riflessione che quello di azione Vero Ok Ok Sgutare qua, perché se non devo pulire tutto io, cazzo di porno Dai Cin 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 Cin, a salute! Pesante la sigla Pesante la sigla Cazzo! E si muore una volta Si vive E si muore una volta Si muore una volta sola Che situazione oh Assurdo raga, il terzo tocchetto grosso così Figa Figa mi sta, mi sta cambiando la vita Questi possiamo buttarli Sì Guarda questi che possiamo buttarli Ohhhh No guarda che io non ho mangiato di più, io sono più grossi pezz... No Non possiamo mangiare nient'altro eh Cioè Qua siamo a 7 minuti e 20 Abbiamo mangiato quanti pezzi? Sì Quattro Sì Proprio C'è disagio Sì Sì Mi arrendo Ha vinto i miei 100 euro Sì